Benvenuti a questa nuova lezione. Anche oggi parleremo di come importare un oggetto all'interno del vostro piano di lavoro. Nella lezione precedente abbiamo visto come importare un file svg, quindi un file bidimensionale. Oggi vi parlerò di come importare un file tridimensionale, quindi un file già tridimensionale da importare all'interno del vostro progetto e modificarlo, utilizzarlo come meglio credete. Dunque, il comando è sempre il solito che abbiamo visto nella lezione precedente, il comando importa. Come vedete in basso, i formati supportati da Tinkercad, oltre all'SVG che abbiamo già visto, sono l'STL e l'OBJ. Quindi STL e Object e OBJ sono i formati più diffusi nell'ambito della stampa 3D, o in generale i formati più diffusi nell'ambito del 3D. Per cui io ho già scaricato un file tridimensionale che ora andremo a importare, e il procedimento in realtà è molto simile a quello precedente. Quindi posso o trascinarlo all'interno di questo riquadro, oppure scegliendolo da Scegli file. Eccolo qua. Quello che voglio caricare è Colosseo. Apro. Come nel caso dell'SVG, anche qui abbiamo la scala e delle dimensioni. Qui il limite imposto da Tinkercad è nella pesantezza del file. Ora il mio è abbastanza leggero, se vedete è 0.53 MB. Tinkercad vi permette di importare file fino a 25 MB. File più grandi non riesce a importare, non riesce a gestirli, quindi consideratelo come limite. E il file è un file .stl. Bene, per importare solita procedura, tasto Importa. Ci sarà un caricamento. Eccolo. In un tempo abbastanza breve, in qualche secondo, apparirà sul vostro piano di lavoro il modello che avete caricato. Come la volta precedente, qualsiasi oggetto che voi importiate è una forma a tutti gli effetti, quindi su questo oggetto potete andare a lavorare esattamente come con tutte le altre forme. Bene, quindi posso andare a renderlo vuoto, piuttosto che solido, cambiare colore per la visualizzazione, oppure andare ad integrarlo in altri tipi di progetto. Per esempio, se vogliamo fare una prova, posso andare a creargli una base su cui questo viene appoggiato. Ecco qua. E poi magari, se voglio, posso spostarlo e andare a inserire una scritta con lo strumento text. Per esempio, andare a scrivere Roma. Eccolo qua. Lo strumento text mi è andato un po' sotto, lo rispostiamo. Ok, quindi ora, questa era giusto una prova velocissima per darvi giusto un'idea. Niente di troppo... Bene, quindi una sorta di souvenir con Colosseo scritta Roma e base. Perfetto. Questo, come sempre, potete farlo con qualsiasi tipo di file 3D, con altri file che avete magari preparato in altri spazi di lavoro, oppure con file che vi vengono passati da altre persone e che potete tranquillamente integrare all'interno dei vostri progetti. Benissimo. Bene, anche per oggi la lezione, questa lezione è finita, questa era una lezione abbastanza breve. Nella prossima parleremo di come adattare questi modelli alla stampa 3D. Bene, arrivederci.